Buonasera, salutiamo Susanna Di Pietra che questa sera ritorna con noi nella nostra solita conferenza stampa. Ringrazio anche il professore Alberto Villani che è il presidente della Società Italiana di Pediatria che oggi mi accompagna in questo incontro. Partiamo dai dati di oggi. Ad oggi il totale delle persone attualmente positive è di 100.269 con un incremento di 1.996 pazienti rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere iniziato circa una settimana fa. Ad oggi sono infatti 3.381 i pazienti in terapia intensiva, quindi ancora un segno negativo nell'incremento rispetto a ieri, 116 persone in meno rispetto a ieri. Il numero dei ricoverati è di 28.144 con 98 persone in meno rispetto a ieri. Mentre la maggior parte dei soggetti positivi sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi sono pari a 68.774 e sono il 69% del totale. Oggi purtroppo registriamo 619 nuovi deceduti. Il totale dei guariti invece sale a 32.534, 2.079 in più rispetto a ieri. Da lunedì sono stati registrati 10.719 tra dimessi e guariti, quindi un terzo del totale. Il trend di crescita dei contagi mostra un incremento sul valore totale di 4.694 nuove persone contagiati rispetto a ieri, che porta a 152.271 i casi totali, comprensivi quindi delle persone attualmente positive, di quelle decedute e delle persone guarite. Un altro dato molto importante è il numero dei tamponi. Siamo arrivati a 963.473 tamponi eseguiti con un incremento rispetto a ieri di 56.609 tamponi. Per quanto riguarda i dati delle somme raccolte dal Dipartimento, il totale delle somme raccolte sul conto corrente del Dipartimento della Protezione Civile di 116 milioni 995 mila euro 123. Queste risorse saranno impegnate per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e per ventilatori e oggi ne abbiamo già spesi quasi 25 milioni. Per quanto riguarda le forze in campo voglio ricordare il numero straordinario. Oggi raggiungiamo il massimo valore in termini numerici di volontari impiegati nell'emergenza. Siamo a 20.616 volontari impiegati. Voglio ringraziare loro come vogliono ringraziare tutti coloro i quali fanno parte delle strutture operative del servizio sanitario e sono impiegati ogni giorno per contrastare questa epidemia, questa emergenza. Anche oggi un gruppo di infermieri è stato portato a Bergamo, 88 persone, 88 infermieri che sono stati distribuiti tra le regioni del nord maggiormente bisognevoli di assistenza e un altro gruppo in Pullman raggiungerà l'Abruzzo delle Marche, ha già raggiunto l'Abruzzo delle Marche. Questo è un importante segno di solidarietà, li voglio ringraziare. Ieri sera sono stato personalmente ad incontrarli e li ho voluti ringraziare per la loro grande solidarietà che hanno dimostrato anche in questa occasione e una grande generosità. Vorrei anche ricordare lo sforzo delle strutture operative, il lavoro fatto da tutte le strutture operative. Oggi voglio ricordare in modo particolare che grazie a una collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e i Posti Italiani sono state consegnate le prime pensioni direttamente a domicilio, che è un altro esempio di quel gioco di squadra che fa il sistema di protezione civile. Poi vorrei concludere con una bella notizia, una buona notizia. Ci è arrivata la notizia che alle porte di Roma è guarito un signore di 94 anni dal coronavirus. Credo che sia il messaggio più bello per fare gli auguri a tutti quanti voi e a tutti quanti noi di una buona Pasqua e ringraziare coloro i quali stanno dando il loro contributo quotidianamente in questi momenti così difficili. Grazie. Io lascio la parola al Professore Villani. Buonasera. Il mio compito è quello di presentare un aggiornamento sulla situazione pediatrica. Permettetemi di ringraziare il Dottor Borrelli e tutti coloro che lavorano alla protezione civile. Per me è stata una grande occasione per verificare in che ottime mani siamo. Ringrazio moltissimo per la professionalità e per tutto ciò che viene fatto. Allora, veniamo a quella che è la situazione pediatrica, il quadro epidemiologico. E anche qui un doveroso ringraziamento al Professor Silvio Brusaferro e al Dottor Patrizio Pezzotti a tutto l'Istituto Superiore di Sanità per i dati che sono costantemente aggiornati e controllati. Allora, per quanto riguarda la situazione pediatrica, quindi parliamo di coloro di età compresa tra 0 e 18 anni, sono state fatte poco più di 2.000 diagnosi. Per quanto riguarda le fasce di età tipicamente suddivise per quanto riguarda l'età pediatrica nel primo anno di vita, nella prima infanzia che è dai 2 ai 6 anni, poi dai 7 agli 11 anni, quindi prepuberale e poi età puberale, i casi sono uniformemente distribuiti, ossia sono circa 400 per ogni fascia d'età, tranne per quella 12-18 che sono circa 900. Un dato che va comunque detto e che può tranquillizzare tutti è che di fatto ospedalizzazioni sono state veramente poche. Parliamo di 44 casi tra i bambini tra 0 e 1 anni e di una ventina, trentina di casi per le altre fasce d'età. Quindi veramente dei numeri contenuti, circa il 7% dei pazienti in età pediatrica viene ricoverato in ospedale. E oltretutto è confermato il dato che non abbiamo pazienti critici in età pediatrica. Ma questo in Italia, e questo ci tengo a sottolinearlo, nel senso che se è confermato che i pazienti pediatrici hanno delle forme meno gravi, va ribadito che questo è il risultato dell'eccellente gestione, quindi di quello che costa a tutti sacrificio, ossia lo stare a casa. Perché chiaramente più aumentano i numeri e il coinvolgimento della popolazione, più il rischio che anche i bambini possano averne conseguenze è alto. Quindi non in tutti i paesi questa situazione si sta verificando e quindi in Italia le cose stanno andando particolarmente bene e ne dobbiamo essere contenti. Ne approfitto anche per dare altre informazioni e comunicazioni. Una è l'importanza della specificità pediatrica. In Italia, fortunatamente, i bambini sono seguiti da specialisti in pediatria e questa è una grossa tutela per la loro salute ed è una grande garanzia. E anche nelle emergenze questo viene garantito con grandi sacrifici, grande impegno, ma con direi eccellenti risultati. Un altro punto che secondo me è importante dare come informazione è che la nascita, il percorso nascita in Italia è sicuro e garantito. Sia per le pazienti che risultassero positive per il coronavirus che per tutte le altre. Sono dei percorsi strutturati, sono stati ben stabiliti e ribaditi dal Ministero della Salute, vengono applicati in tutte le regioni. Quindi il percorso nascita è un percorso garantito e sicuro e ho già detto che laddove ci sono dei bambini che poi contraggono anche in età neo-natale l'infezione hanno sintomi lievi, sono ottimamente e prontamente gestiti e questo secondo me è un punto importante che va ribadito. C'è talvolta e viene affrontato il problema del parto senza il papà in sala parto o senza avere nessuno vicini. Beh, questo dipende molto dall'organizzazione e dalla strutturazione del punto nascita. Quindi chiaramente l'indicazione resta quella di far sì che meno persone possibili accedano agli ospedali se non ne hanno bisogno e quindi che ci sia l'accompagnamento minimo ma ci sono degli ospedali in cui anche questo è possibile. Come pure va ribadito l'allattamento al seno che è possibile sempre e comunque seguendo quelle che sono le direttive che verranno date nel punto nascita. Su questo il professor Mosca della Società di Neonatologia insieme ai colleghi ginecologi, alle ostetriche, a tutti hanno fatto un bellissimo percorso. Un altro punto e visto che siamo vicini a Pasqua è giusto dare, come ha già fatto anche il dottor Borrelli, delle buone notizie. Il vaccino, il vaccino contro il SARS-CoV-2 sta percorrendo un percorso che è a tempi di record e quindi credo che si possa essere fiduciosi per ottenere qualcosa in tempi che saranno veramente, probabilmente, straordinariamente rapidi. E questo ci conforta molto. Ma è anche l'occasione per ribadire alcune cose. Uno, il percorso vaccinale di ogni bambino, quindi quello che è il rispetto del calendario vaccinale, può e deve essere garantito e continuato. Direi a maggior ragione in questo periodo. E l'altro aspetto, prepariamoci per l'autunno. Sarà molto importante che tutti coloro che si devono vaccinare per l'influenza lo facciano. Il Ministero sta preparando, come sempre, la apposita circolare in cui verranno date indicazioni sulla popolazione anziana, su tutti coloro che sono con patologie a rischio e per i bambini. Ricordiamocene, perché mai come quest'anno, quest'autunno, sarà molto, molto importante vaccinarsi. E questo è bene ribadirlo ed è una garanzia per tutti ed è bene che venga fatto. L'altro aspetto che mi preme sottolineare è che la continuità per tutti i bambini che hanno patologie croniche o hanno problemi importanti è garantita negli ospedali. E si deve andare tranquillamente in ospedale. Quindi coloro che devono effettuare dei controlli perché hanno una patologia cronica o hanno motivo di farlo. Tutti coloro che hanno dei sintomi che meritano l'attenzione ospedaliera, quindi tutti i bambini devono essere portati in ospedale. Perché è giusto che facciano tutte le cose nei tempi e nei modi dovuti e soprattutto la garanzia che questo avviene in piena sicurezza e tranquillità. Ribadisco questo e faccio degli esempi. Sono stati fatti quattro trapianti all'ospedale Bambino Gesù in 48 ore. In tutti gli ospedali c'è un'attività in tal senso e il tutto avviene in piena sicurezza e tranquillità. Ringrazio nuovamente tutte le pediatri, gli infermieri e le infermiere pediatriche per quello che stanno facendo. Permettetemi di ringraziare moltissimo anche il Ministero della Salute, la Protezione Civile, l'Istituto Superiore di Sanità, l'INAIL per la professionalità e per quello che stanno facendo con competenza e dedizione. Concludo questo intervento con una notizia che da pediatra mi fa piacere dare. A quest'ora, quindi fino a poco fa, prima di entrare in questa sala, i nuovi nati oggi erano già più di 930. Quindi abbiamo 930 bambini nati oggi e questo penso che sia un modo bellissimo poi per augurare a tutti una serena Pasqua. Grazie Professore. Diamo spazio alle domande. Buonasera, Giorgia Sodaro, ADN Kronos. Due domande, una per uno. Allora, rimanendo su quello che ha detto il Professor Villani, volevo capire, ha parlato di tempi molto brevi per il vaccino, ma se ci può dire brevi che cosa significa, insomma, in termini, non so, un anno o meno, 18 mesi. E l'altra domanda, risponde prima a questo? Come vuole, come vuole. Allora, guardi, brevi significa questo. Normalmente per arrivare a un vaccino che venga commercializzato il tempo medio è di 2-3 anni. Vengono fatte almeno 10-12 linee di ricerca e se tutto va bene questi sono i tempi. In questa occasione penso che i tempi saranno molto molto più brevi. Dare dei tempi precisi è molto difficile, però sicuramente non saranno quelli abituali che si hanno per un vaccino. L'altra domanda per il Dottor Borrelli. In questi giorni, insomma, è emersa questa situazione drammatica delle RSA, non solo per quanto riguarda il numero dei contagi, ma anche per quanto riguarda i contagiati tra gli operatori. Questo sostanzialmente ha provocato in alcune situazioni anche una carenza nell'assistenza a persone non autosufficienti. Mi chiedevo se da questo punto di vista, posto che non è di vostra competenza, però se la protezione civile con i volontari può in qualche modo entrare in gioco a supporto di queste realtà dove ci sono situazioni drammatiche. Sì, allora, intanto per quanto riguarda le RSA ci stiamo occupando già da diversi giorni. Le sanità regionali stanno provvedendo a rinforzare il personale dell'RSA, ma anche il sistema nazionale di protezione civile sta provvedendo. Oggi una parte degli infermieri che abbiamo fatto partire, che sono arrivati su Bergamo, sono andati nell'RSA. Quindi la nostra task force degli infermieri sarà destinata a rinforzare anche il personale dell'RSA. Nell'ordinario chiediamo l'intervento dell'esercito quando c'è bisogno del personale militare anche per l'RSA. laddove è possibile anche le nostre organizzazioni di volontariato con il personale sanitario mettere a disposizione questo personale per l'RSA. Si tratta di un supporto il nostro rispetto a quelle che sono le risorse che vengono messe in campo ordinariamente all'interno delle regioni. Buonasera, prima cosa. Sono Navarra di agenzia di stampa Asca News. Prima domanda al dottor Villani. Ecco, in questi giorni tutti quanti noi, la maggior parte di noi, sta più a casa con i ragazzi, con i bambini. Se ci sono delle indicazioni da dare per il vivere con i ragazzi, questa è una cosa positiva. Poi dopo una domanda a lei, dottore Borrelli. Guardi, come Società Italiana di Pediatria abbiamo più volte dato delle indicazioni e dei consigli che sono facilmente scaricabili dal nostro sito e che sono quella di una ottimizzazione del tempo. Guardi, una piacevole scoperta che abbiamo avuto proprio come pediatri, si è parlato molto di crisi della genitorialità. Abbiamo scoperto in questa occasione che in realtà era una crisi dovuta al tempo, cioè non si trascorreva tempo insieme. Allora, questa è una grande opportunità, nel senso che lo stare insieme, se da molti aspetti è un limite ed è una sofferenza, è anche un'opportunità per valorizzare dei rapporti, per conoscersi meglio con i bambini piccoli, per insegnare loro delle buone abitudini che poi verranno mantenute in seguito. La vita continua, ovviamente, allora è bene che i bambini abbiano una giornata organizzata come se dovessero andare a scuola. Quindi non ha senso farli dormire fino a tardi, mandarli a letto tardi e cercare di scandire la giornata. E lo stesso vale per gli adolescenti. Guardi, in realtà siamo un po' tutti rimasti sorpresi dalla maturità degli adolescenti. È anche vero che loro sono più abituati rispetto a noi, a tutti questi sistemi moderni per cui loro già comunicavano in questo modo. Però le dico che ci sono anche degli aspetti positivi che vanno valorizzati e questo secondo me è veramente un valore. Guardi, quello della genitorialità è veramente una riflessione da fare. La scoperta, la grande scoperta è che non c'era il tempo di stare insieme. Allora approfittiamone. A trovarlo il tempo. Grazie. Dottor Borrelli, ancora oggi dalla tabella salta agli occhi la situazione della Lombardia. Ieri è stata data notizia di un'apertura di indagine riguardo la situazione del Pia Beco Trivulzio. Ci sono attività in corso, ha detto la stessa procura di Milano, per quel che riguarda l'azione che è stata messa in campo. Ecco, a parere suo, questa situazione della Lombardia rispetto a tutti gli altri dati emerge in maniera lampante ogni volta. E' sempre, diciamo, in maniera costante quasi in queste ultime settimane. Io posso dire che abbiamo alcune regioni che sono più colpite di altre. Però i dati che noi oggi riscontriamo, come avete visto anche nel corso di questa settimana, ci inducono a dire di non abbassare assolutamente la guardia. Dobbiamo tenere questi comportamenti. Non a caso sono state prolungate le misure che sono state adottate dal Governo perché non abbiamo sconfitto il virus. Bisogna adottare i comportamenti responsabili, le norme di precauzione. E io credo che anche in Lombardia siamo sulla strada giusta per contenere la diffusione del virus. Buonasera, sono Cecconi del Tg3. Due questioni per il dottore. La prima è che la Lombardia, Gallera oggi ha detto la quarantena di 14 giorni potrebbe non bastare. Noi facciamo fare una quarantena di 28 giorni e utilizzeremo questo standard. Quindi le chiedo che cosa ne pensa. Un'altra è su un suo collega che forse conosceva, che è Edoardo Valli, il cui caso è stato sui giornali in questi giorni. Purtroppo è morto a 62 anni. Aveva fatto un post su Facebook implorando che gli venisse fatto un tampone. Allora siccome conosciamo tutti più o meno persone che hanno sintomi, sono molto probabilmente positive al Covid, ma non riescono a farsi fare un tampone. Adesso vedo che siamo arrivati anche a 56 mila. Com'è possibile, se c'è disponibilità di tamponi, che ci siano ancora queste inefficienze, che non si arrivi a fare il tampone in tempo a persone che stanno anche male? Allora guardi, per quanto riguarda il primo argomento penso che sia molto giusto considerare un aspetto che talvolta viene vissuto come un qualcosa di negativo, in realtà è positivo. cioè l'evolutività, il cambiamento, talvolta si dice ma vengono fatte nuove norme, nuovi decreti. Beh certo, perché i decreti e le norme vengono fatte in base a quella che è la situazione. Allora io non so in base a quali elementi l'assessore Gallera, che ha un ruolo istituzionale importante, stia considerando questo, ma se lo fa evidentemente lo basa su delle osservazioni epidemiologiche, su dei dati, su dei consigli di esperti. E quindi onestamente io più che dire che probabilmente andrebbe fatta a lui questa domanda, non saprei che dirle. Però ecco non c'è da sorprendersi se qualcosa può cambiare. Per quanto riguarda l'altro aspetto, quello dei tamponi, anche qui ora non conosco bene il caso specifico. Quello che le posso dire è che va sempre considerato il fatto che stiamo vivendo una emergenza straordinaria. Talvolta non le nascondo che io sono molto sorpreso dal fatto che non si tenga sempre conto di questo. Probabilmente per un approccio da pediatra ottimistico che ho, rimango sempre piacevolmente sorpreso del continuo miracolo che viene fatto in tutti i campi. Questo ovviamente non giustifica delle situazioni nelle quali, se c'era l'indicazione a farlo, non è stato fatto. Però mi creda, mi riesce difficile immaginare che si possa fare di più. Perché onestamente quello che io ho modo di vedere con tutte le difficoltà del caso è uno sforzo sovrumano che viene fatto proprio per una situazione eccezionalissima. Quello che le posso dire con ragionevole certezza è che quello dei tamponi, della diagnostica è un tema non all'ordine del giorno, all'ordine del minuto. Quindi si cerca sempre di fare di più e meglio e chiaramente speriamo di arrivare a una situazione in cui la salute di tutti sia tutelata al meglio. Però molto è dovuto proprio alla emergenzialità. Buonasera, Angela Caponnetto, Ragnos24. Io mi rivolgo al professor Villani perché parlavamo di bambini. Venga presente che si ingelosisce il dottor Borrelli se fate le domande solo a me, vi prego. Se mi vuole anche rispondere... Sulla parte pediatrica lascio volentieri. Sono curiosita dal fatto che i bambini che devono stare in casa ancora a lungo dal punto di vista psicologico, tra un mese e due mesi, sentiamo di bambini che non ce la fanno veramente più a rimanere in casa. Dal punto di vista psicologico come si potrà poi, insomma, recuperare un po' di questa vita perduta, tra virgolette, in casa? Grazie. Grazie molte di questa domanda, anche perché è un argomento molto sentito. Chiaramente stare in casa è una criticità. Quello che posso ribadire è che è molto importante il ruolo dei genitori, di coloro che stanno con questi bambini. Mi rendo conto che è molto molto difficile. Però il bambino è sereno se il genitore è sereno. E ad operare delle opportunità è possibile, nel senso che cortili, terrazzi ci sono. È stato già detto più volte che nel rispetto di tutte le regole e facendolo nella maniera opportuna non è impossibile stare vicino casa per un breve periodo. Quindi bisogna sfruttare le opportunità nel rispetto delle regole, nel rispetto del distanziamento sociale. Chiaramente è un qualcosa di impegnativo, ma questo dipende dal coronavirus. Come sarà possibile riprendere? Ma guardi, i bambini, gli adolescenti, hanno delle risorse splendide, straordinarie. Sta a noi adulti valorizzare tutte le positività. Mi veniva raccontato e detto, ma è un problema molto vissuto, quello per esempio dell'addormentamento per alcuni bambini. Beh, allora prima di dormire parlare di cose belle, raccontare belle storie, enfatizzare quello che è stato un momento gioioso della giornata. E le ripeto, c'è anche questo aspetto molto importante, la vicinanza dei genitori. Beh, questo mi creda è un valore meraviglioso e assoluto e che dà una valenza significativa. Cioè, è vero che stanno chiusi in casa di più, ma è anche vero che stanno più tempo con i genitori. E questo è un valore veramente grande. È chiaro che è un momento di difficoltà che bisognerà riprendere, ma credo che la gradualità avverrà sia per la ripresa della vita di tutti, ma anche per quella dei bambini. Buonasera, sono Mauro Evangelisti, messaggero. Volevo tornare sui dati. A me colpisce che abbiamo in realtà qualche numero negativo, nel senso quindi che va con la freccia verso il basso, che è quello dei ricoveri e quello delle terapie intensive. E quindi queste sono buone notizie. Volevo capire però se, a fronte di un aumento dei casi positivi e una diminuzione dei ricoverati, questo sta avvenendo perché abbiamo imparato ad assistere i pazienti a casa, quindi siamo più preparati anche ad non avere la necessità di ricoverare i pazienti. Se dall'altra parte invece facendo più tamponi stiamo raggiungendo anche pazienti con sintomi più lievi e quindi possiamo assisterli a casa o ancora, ma questo sarà difficile dare una risposta, se invece c'è un indebolimento del virus. Ecco, volevo capire come si spiega l'aumento dei casi e la diminuzione dei ricoveri. Ma guardi, in realtà è molto difficile ragionare sempre su termini brevi. Quello che le posso dire è che in una valutazione a medio termine, che è quella che ha più senso fare, stiamo in una situazione di stabilità in senso positivo. E io questo dato recepirei perché quello che è importante è fronteggiare le vere criticità, quindi i decessi, la terapia intensiva, i casi gravi e questo è il segnale positivo. Poi chiaramente ci siamo sempre detti e sappiamo che molto probabilmente le persone affette sono molto più numerose. coloro che hanno il coronavirus nel proprio corpo magari senza neanche saperlo. Allora il dato oggettivo e sul quale noi ci possiamo serenamente confrontare è proprio questo. Le cose stanno andando bene, c'è risposta a quelle che sono le misure e questo però ci impone di continuare a comportarci come ci stiamo comportando. quindi nel rispetto rigoroso di quello che ci siamo detti di fare. Buonasera Filomena Rorro. Di chi l'ha visto Rai3. Una domanda al Dottor Borrelli. Questo appuntamento quotidiano ormai è attesissimo e molto seguito da tutti noi e soprattutto dai cittadini che vogliono essere informati. Lei, Dottor Borrelli, ogni giorno in maniera puntuale e precisa ci fornisce i dati delle persone che si sono ammalate, delle persone che sono in terapia intensiva, quelle guarite e purtroppo anche delle vittime. Ecco perché invece non è stata resa nota, non è stata resa pubblica e quindi forse secretata una nota dei primi giorni di marzo del Comitato Tecnico Scientifico che avendo avuto i dati dei paesi della Lombardia, dei Alzano, parlo di Alzano Lombardo e di Nembero, vi proponeva, vi suggeriva la chiusura di questi due comuni ancora prima che tutta la Lombardia divenisse zona rossa, in modo che se il cittadino di Alzano, di Nembero anziché girare per i comuni della Lombardia e quindi anche a Bergamo e quindi nelle grandi città, insomma avendolo saputo pubblicamente magari sarebbe stato fermo avrebbe evitato anche la diffusione del virus e del contagio a Perazzi. Su questo tema si è parlato molto anche lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, ha chiarito i termini della questione. Io credo che le misure che sono state adottate dal Governo e che vengono prese ad esempio in tutta Europa e nel mondo erano improntate al criterio della proporzionalità e dell'adeguatezza. Nel momento in cui si è valutato l'esigenza di chiudere non si è chiuso soltanto la zona di Nembero di Bergamo ma l'intera Lombardia e il giorno dopo si è anche proceduto a una chiusura su tutta Italia. Quindi le misure che sono state adottate sono state adottate in assoluta trasparenza. Anche il Professor Brusaferro qui da questo tavolo ha chiarito quelle che erano le posizioni della comunità scientifica sul Nembero quindi io credo che non ci sia stata alcuna difficoltà nel rappresentare e nel gestire la vicenda bergamasca. Io lo chiedevo semplicemente perché quella nota noi l'abbiamo cercata ovunque sui vostri siti e non l'abbiamo trovata. Qualche collega forse è riuscito a visionarla questi suoi termini ma noi insomma... No, è stato analizzato nel Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico ha fatto delle valutazioni e poi ovviamente le disposizioni sulla chiusura sono avvenute da parte del Governo. Quindi nulla di segretato. Sono gli atti normali del Comitato Tecnico Scientifico. Grazie. Allora se non ci sono altre domande vi ringraziamo e auguriamo a tutti di nuovo buona Pasqua. Buonasera. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.